Il 5 febbraio, Michael Alessandrini andrà a processo al Tribunale di Pesaro davanti al giudice per l'udienza preliminare. Sarà la prima di tre udienze disposte su richiesta della Procura della Repubblica di Pesaro, che ha chiesto il rinvio a giudizio per il 31enne pesarese, accusato di aver ucciso Pierpaolo Panzieri, allora 27enne, il 20 febbraio di un anno fa nella sua casa di Via Gavelli, nel centro storico di Pesaro. Un crimine efferato a colpi di coltellate seguito da una fuga internazionale conclusa con l'arresto in Romania a pochi giorni dal delitto. Ora Alessandrini è rinchiuso nel carcere di Villa Fastigi dopo essere stato in quello di Ascoli e dopo una serie di moventi deliranti a contestualizzare l'omicidio di Pierpaolo col quale sussisteva un rapporto di amicizia di vecchia data. A quasi un anno dal delitto Alessandrini andrà in udienza davanti al GUP per rispondere dell'accusa di omicidio volontario aggravato da premeditazione e futili motivi. La famiglia Panzieri si è costituita parte civile affidandosi agli avvocati Paolo Biancofiore e Fabio Anselmo. Alessandrini arriva a processo dopo una perizia psichiatrica che ne ha attestato una parziale infermità mentale. Sarà difeso dagli avvocati Salvatore Asole e Carlo Taormina.